Ok, allora iniziamo la registrazione. Ci sono già i video su YouTube, dovreste aver ricevuto tutti i link. Riepilogo velocemente quanto detto nel video. Vi chiederei se c'è qualche domanda specifica di scrivermela in chat e così io provo a rispondere direttamente. Purtroppo non riusciamo a interagire in maniera vocale perché se iniziate a aprire i microfoni e lo fatti tutti assieme direi che è un disastro. Quindi vi chiederei semplicemente di scrivere qualcosa in chat nel momento in cui avete una domanda e eventualmente a quel punto io vi do anche la possibilità di parlare e dopodiché provo a chiarire. Quindi tornando a noi, eccoci qua, mi sono già presentato, quindi sono Marco Torchiano, ci saranno due coadiutori che sono Diego Monti e Simone e Leonardo che seguiranno la parte di laboratorio. La parte di laboratorio è ancora tutto un punto interrogativo nel senso che mentre questa modalità o quella che non ha funzionato prima della virtual classroom va bene se io parlo e voi ascoltate, se dobbiamo interagire come in un laboratorio in cui voi magari avete un problema e ciascuno ha un problema magari leggermente diverso, è difficile. E quindi potrebbe essere più utile un'altra modalità. Quindi probabilmente utilizzeremo Slack in cui è possibile utilizzare delle chat anche individuali e in cui volendo è possibile far partire delle chiamate Zoom però individuali e quindi di volta in volta ogni singolo assistente, quindi io più i miei coadiutori, cercheremo man mano nel tempo, avendo tempo disponibile, di darvi supporto. Allora, vedo domanda. Allora, la domanda che leggo è se è necessario completare tutte le versioni YouTube più quelle di virtual classroom. Allora, io intendo mettere su YouTube tutte le versioni, tutte le video lezioni, anche quelle registrate, della virtual classroom del Politecnico oppure questa. Quindi verrà messo tutto e quindi dovrebbero essere sufficienti. Spero di aver risposto. Quindi tutto il materiale andrà a finire su YouTube che almeno è accessibile e il materiale, le slide, eccetera, verranno messe sul sito del corso. Allora, come vi dicevo, la mia intenzione è quella di pubblicare qualcosa prima delle lezioni, avere delle lezioni ufficiali, che sono queste, in cui riepilogo velocemente, e poi altri momenti in cui indicativamente via e-mail oppure via Slack, avere delle interazioni. È fondamentale anche perché per me è difficile parlare, io vedo i nomi davanti, quindi un po' mi aiuta, però è difficile parlare davanti a una telecamera per un tempo lungo, quindi è anche per voi ascoltare in questo orario è complicato. Quindi la modalità che vorrei sperimentare, almeno questa prima una o due settimane, è quella di mettere i video e quindi chiedo a voi lo sforzo di guardare i video prima di queste lezioni e poi in queste lezioni io le riepilogo e cerco di rispondere alle domande e eventualmente vi propongo magari anche qualche esercizio online. Quello che posso fare, che normalmente facevo in aula, era di aprire un editor e andare a scrivere il programma man mano spiegandolo. Ovviamente lo posso anche fare offline, ma è più difficile, se è interattivo possono sorgere delle domande in cui io rispondo direttamente. Quindi queste lezioni, a parte oggi che è iniziata con un'ora di ritardo, dureranno un po' meno di quello previsto perché a parte il riepilogo e poi un minimo di risposta alle domande e qualche esercizio assieme, non utilizzeremo tutte le tre ore, anche perché avrete dedicato anche voi un po' di ore a casa a guardare i video. Allora, la domanda è giusta. Il video su YouTube è molto più sintetico rispetto alle lezioni perché durante le lezioni io ho davanti voi, in realtà, i vostri colleghi l'anno scorso e per cui in base alle reazioni, in base alle domande, il fatto che ci siano delle persone che magari fanno le facce strane, io rallento. E quindi le lezioni in aula registrate richiedono molto più tempo, abbastanza più tempo rispetto a quelle fatte direttamente così, per cui io in questo momento sto parlando direttamente, non ho nessuna reazione, vedo magari la chat, la domanda, ma per il resto parlo molto più velocemente rispetto a quanto farei in aula. Per cui il vantaggio delle video lezioni fatte e messe a disposizione prima è che sono più compatte. Ovviamente voi ve le guardate quando volete, quindi potete metterle in pausa, rallentarle, mentre invece per le lezioni in aula, normalmente, da quello che mi dicevano i vostri colleghi degli anni precedenti, quello che succedeva è che spesso si mettevano a una volta e mezza o due volte la velocità, perché ci sono un sacco di pause che rompono se uno se li guarda offline, mentre se invece uno è in aula è diverso anche sentire o ascoltare rispetto al flusso continuo che si può avere in questo caso. I contenuti di quest'anno saranno sostanzialmente equivalenti a quello dell'anno scorso, quindi non c'è nessuna differenza di programma. Potrebbe esserci qualche differenza in termini di magari slide che vengono aggiornate, cose che vengono dette in maniera diversa, ma sostanzialmente il programma è lo stesso dell'anno scorso, senza nessuna variazione. Quindi è importante che voi guardiate le lezioni prima, perché altrimenti vi ritrovate in questa lezione in cui io faccio, adesso andando molto nel dettaglio, ma la mia intenzione è di fare un riepilogo molto sintetico, quindi probabilmente vi perderete molte cose, oppure se nel riepilogo si capisce quanto le lezioni lunghe, allora probabilmente vuol dire che durante le lezioni parlo troppo, ma me lo direte voi con calma. Le video lezioni tendenzialmente le lascerei su YouTube, tanto c'è il link. Ditemi voi se avete necessità di avere le video lezioni sul portale. Non sono equivalenti, nel senso che io non riesco a caricarle direttamente dove voi vedete quelle dell'anno scorso, perché quelle venivano registrate da un nucleo particolare e quindi montate, eccetera, eccetera. Quindi non saranno messe esattamente. Se volete io posso mettere i video anche, i file video anche nel materiale. Giustamente non riuscite a scaricarle, non è un problema assolutamente mettere i video che io carico su YouTube, anche sul portale, così ce l'avete a disposizione lì senza problemi. Quindi le potete... Vi lascerei entrambe le modalità. Quindi ognuno sceglie poi quella che è più comoda. Se uno preferisce scaricarselo perché magari ha la connessione che non va tanto e poi ha guardarseli offline, quindi direi che oggi vi carico le lezioni che al momento sono su YouTube anche sul portale, quindi scegliete voi. Ok, perfetto. Su Java 8 vi rispondo tra un attimo appena ci arrivo. Quindi abbiamo la virtual classroom, questa è la slide di qualche giorno fa. A questo punto direi che... Io tenderei a farvi usare Zoom perché almeno oggi mi pare che stia funzionando, nel senso che io adesso vedo 140 persone, sulla chat non vedo nulla. Andrei avanti qua, a meno che poi mi dicano che dall'altra parte funziona tutto molto meglio di oggi. In ogni caso per voi non dovrebbe... Allora, avete già installato tutto. Vi mando il link per il meeting, quindi dal vostro punto di vista non dovrebbe cambiare molto. Se però avete obiezioni o avete altri problemi, ditemelo, fatemelo sapere. Se non in chat adesso, magari anche via mail o su Slack con calma. Slack lo useremo per un'interazione. Adesso non ho aperto Slack, quindi non riesco a vedere se mi andate dei messaggi, ma sostanzialmente l'idea è di utilizzarlo per le interazioni offline. Quindi al di fuori dell'orario delle video lezioni cerchiamo di interagire in quel modo. Qual è il vantaggio di Slack? È che avendo un canale generale, poi io ho creato un canale Java, un canale Laboratori, vi chiederei di fare le domande sul canale generale. Normalmente se uno di voi ha un dubbio, è probabile che altri 5, 10 o 50 abbiano lo stesso dubbio. Quindi è molto comodo rispondere una volta sola e quindi voi vedete le risposte e ce l'avete direttamente. Quindi magari un dubbio che non avete ancora espresso vi viene poi risposto lì. Quindi potete poi scorrere la chat di Slack per vedere eventuali risposte a domande che magari vi sono venute in mente dopo. Tutto il materiale del corso lo trovate su questa pagina. Le video lezioni volendo ve le posso mettere di sopra come facevo per altri corsi. Il materiale, le slide e quant'altro è tutto a disposizione lì e quindi potete poi accedere senza problemi. Tendenzialmente preferisco utilizzare questa pagina perché il portale non sempre funziona bene. Questa è aperta, quindi non necessita di alcun login e almeno in passato è stato il risultato più affidabile rispetto al portale ufficiale della didattica. Vi chiedo anche di fare molta attenzione e di andare a leggere tutta la documentazione che trovate su questo sito. op.it.it.doc Qui c'è una pagina con il software di riferimento quindi tutto quello che vi serve da casa. Visto l'andamento di questa emergenza non esclude che faremo tutto il semestre in modalità a distanza quindi è importante che voi vi installiate tutto il software necessario a casa. Lì trovate tutti i riferimenti, i link e quant'altro. Allora, uno mi chiede se è possibile sbloccare il materiale Allora, il mio materiale è tutto aperto quindi su questa pagina trovate tutto quello che serve quindi è sbloccato di default i programmi dei tre corsi paralleli in realtà quattro perché ce n'è anche uno in inglese sono esattamente identici quindi l'esame sarà uguale per tutti anzi, normalmente lo facciamo assieme e poi l'esame avviene nella stessa giornata e eventualmente su più turni. Quindi le modalità d'esame vi chiederei di guardarle, di leggerle attentamente soprattutto prima dell'esame viene scritto come avviare le registrazioni di laboratorio in laboratorio però la cosa probabilmente in questo momento ci serve veramente poco invece l'uso di subversion in Eclipse e l'installazione del plugin di subversion ci sarà molto utile perché permette di accedere a distanza alle esercitazioni quindi è fondamentale che poi ve lo leggiate diciamo che mercoledì poi inizieremo a entrare nei dettagli su il software e quindi ritorneremo su questo argomento gli orari sono questi direi le aule non sono quelle ma direi che noi ci vediamo in questi orari direi a questo punto via zoom che sembra funzionare abbastanza bene e poi il venerdì ci saranno i laboratori sappiate che in queste prime due settimane non sono previsti i laboratori anche perché l'idea è che io vi debba raccontare un po' di cose di base per poterli poi mettere in grado di andare a scrivere i primi programmi quindi questa settimana e la prossima saranno dedicate ad aspetti teorici dopodiché inizieremo con i laboratori questo permette anche a noi di organizzarci e capire un attimo qual è la modalità migliore per poterli svolgere ci sono due grossi temi quindi l'ingegneria del software e il linguaggio Java l'ingegneria del software che inizialmente sarà confinata a un angolino è una parte minima del corso invece il linguaggio Java è la parte principale questi sono gli strumenti che noi andremo a utilizzare quindi abbiamo principalmente Java che è un ambiente oltre ad essere un linguaggio abbiamo Eclipse che è l'ambiente di sviluppo integrato utilizziamo Eclipse perché è uno dei più diffusi probabilmente non il migliore ce n'è un altro che probabilmente è migliore che si chiama IntelliJ vi chiederei di utilizzare Eclipse potete anche provare gli altri ma è bene che imparate ad utilizzare Eclipse perché poi nell'esame in laboratorio ci sarà Eclipse da utilizzare quindi è bene che voi abbiate un po' di familiarità altrimenti perdete tempo in sede di esame Subversion è un altro strumento che utilizziamo è integrato in Eclipse quindi vi ho accennato un plugin da inserire in Eclipse ecco serve per far funzionare Subversion Subversion vi permette di andare a accedere e poi salvare il materiale in un repository il corso si baserà abbastanza e soprattutto l'esame sui test e JUnit è la libreria all framework standard per scrivere i test in Java in generale non vi sarà chiesto di scrivere dei test vi sarà chiesto di eseguirli e di interpretare il risultato certo se imparate a scriverli è un grosso vantaggio perché poi in futuro vi servirà infine UML è un linguaggio di modellazione grafico che permette di andare a descrivere quelle che sono le strutture dei programmi orientati agli oggetti quindi Java ma anche altri linguaggi agli oggetti questi sono il numero di ore in aula eccetera ma direi che saltano un po' per quest'anno i laboratori inizialmente erano fatti a settimane alterne ma di nuovo stiamo cercando di capire qual è la modalità migliore e come utilizzarli in questo contesto avrete degli esercizi che vi verranno dati normalmente l'esercizio parte da una struttura lo schedo di un programma che voi dovrete completare per quanto riguarda gli esercizi di laboratorio non fanno parte non vengono contati nel voto finale ma vengono valutati nel senso che allo scadere del tempo per eseguire i vari esercizi che voi dovete consegnare noi eseguiremo dei test e l'esito di questi test vi verrà comunicato quindi avrete un feedback su la correttezza del vostro codice per cui è importante farli e sottometterli tenete presente che l'esame consiste nella scrittura di un programma e i programmi dell'esame saranno valutati con dei test quindi iniziate ad abituarvi a questa modalità e svolgete gli esercizi in maniera regolare cercheremo di darvi il supporto massimo possibile compatibilmente con le modalità che abbiamo adesso che cosa dovete sapere dovete conoscere la programmazione in C questo è fondamentale la sintassi java è eredita molto dal C e quindi la presenteremo per differenze quindi è ovvio che la sintassi dei cicli for dell'IF eccetera viene data per scontata quanto C conoscete beh più conoscete meglio è per cui io vi invito vi avevo già mandato il link prima ma per chi non l'ha ancora fatto a collegarvi a questo indirizzo e a rispondere al questionario un questionario di autovalutazione ce n'è uno iniziale sul conoscenza dei C ce ne saranno altri più avanti sugli argomenti che tratteremo durante il corso serve a voi per valutarvi e per capire un attimo quanto conoscete di C compilatelo il prima possibile perché poi mercoledì prossimo vediamo assieme in in video chiamata le risposte e quindi vi do le soluzioni tenete presente che abbiamo introdotto questi questionari l'anno scorso e abbiamo notato come chi effettivamente risponde regolarmente ai questionari quindi cerca di seguire alla fine ha poi dei risultati migliori all'esame quindi sono dei momenti per fissare le idee che poi sono utili anche per voi successivamente i questionari non sono anonimi per cui dovete inserire la vostra matricola perché servono a noi per andare a fare un monitoraggio del livello di conoscenza e ovviamente ci serve sapere come le conoscenze evolvono per ognuno di voi tutto questo questionario iniziale quelli successivi non verranno utilizzati per il voto finale ok servono a voi per autovalutarvi e a noi per identificare eventuali possibili problemi perché se su una particolare domanda tutti sbagliano è probabile che ci sia una carenza in quel settore quindi magari noi cerchiamo di integrarla il più possibile il software Java 8 Eclipse Oxygen 3A Subversive e volendo un altro paio di tool che sono Asta e Papyrus prima c'è la domanda perché utilizziamo Java 8 e non quella più recente e allora sostanzialmente perché Java 8 è quello ancora più utilizzato in generale le nuove versioni hanno aggiunto alcune caratteristiche che però non sono così utili soprattutto a un livello basso mentre Java 8 ha aggiunto dei costrutti molto importanti quelle successive hanno aggiunto dei costrutti che non sono fondamentali sono utili per una programmazione più avanzata ma non per quella di base quindi noi restiamo su Java 8 un altro motivo è che Java 8 è la versione attualmente installata in laboratorio ed è quella che funziona voi capite che in sede d'esame quando ci sono 250 persone sparse su tutti i live del Politecnico avere un qualcosa che siamo sicuri che funziona è importante perché altrimenti salta l'esame e che è una cosa altamente spiacevole anche per Eclipse utilizziamo una versione vecchia che si chiama Oxygen e di nuovo è quella che funziona è quella che cerchiamo di farvi vedere noi in modo che ci siamo riferimento ora voi siete liberi di aggiornare la vostra installazione quindi potete installare l'ultima versione di Eclipse che è la 2019-12 potete installare le versioni più recenti di Java se volete installare una versione più recente di Java quella che vi consiglio è la 11 perché è una versione a lungo tempo di manutenzione e quindi viene garantito che continui a funzionare che arrivino soprattutto gli aggiornamenti fino al 2023 mi pare quindi se volete usare qualcosa di più recente rispetto a Java 8 usate Java 11 non 12 o 13 l'esame finale ha una parte di programmazione e una parte di teoria ma ci torneremo ancora più avanti nella parte di programmazione ci sono due fasi una in laboratorio in cui voi scrivete il codice e lo sottomettete usando Subaction come vedremo nella seconda fase invece a casa dovete prendere quanto avete sottomesso in laboratorio e cercare di correggere gli eventuali errori oppure non fare nulla se avete già fatto tutto correttamente come vengono valutati sostanzialmente la valutazione avviene sulla base di correttezza funzionale quindi eseguiamo dei test la percentuale di test superati è quanto è corretto il programma un altro aspetto fondamentale è quanto è sbagliato quello che non avete fatto in maniera corretta quindi sostanzialmente andiamo a valutare quanto manca dalla vostra soluzione a quella corretta per cui andremo a valutare quanto avete modificato il programma durante le vostre correzioni fatte a casa per quanto riguarda la teoria ci sono delle domande la risposta chiusa e quindi semplicemente valutiamo le risposte corrette quindi questa è la valutazione domanda se cambiano sintassi tra le varie versioni allora sostanzialmente la sintassi che usiamo noi che quindi verrà tornatemi indietro a Java 8 eccetera la sintassi Java 8 funziona tranquillamente anche se utilizzate Java 11 in Java 11 in Java 10 sono introdotti i moduli che noi non tratteremo in questo corso però potete tranquillamente scrivere codice Java 8 e funziona senza problemi in Java 11 o qualunque versione successiva le versioni che vedete qua sono esattamente le stesse dell'anno scorso quindi non abbiamo toccato nulla è complicato avere un'installazione funzionante in laboratorio quindi almeno per un paio le danni le teniamo stabili e non non le tocchiamo in ogni caso i fondamenti del linguaggio Java sono gli stessi in Java 8 e in Java 11 non cambia molto ok non ci sono modifiche sostanziali del linguaggio fondamentale direi che questo è l'esame e quindi non c'è molto altro da raccontarvi a questo punto velocemente iniziamo a ok fermo la condivisione un attimo vi passo a un'altra serie di slide che sono quelle che vi ho messo online ieri un'altra Sharing. Allora, dovreste vedere adesso le slide relative alla parte di... Scusate, ma non vedo più la chat, non so come mai. Scusate, ma non vedo più. Scusate, le slide non sono identiche a quelle degli anni passati perché vengono man mano aggiornate. Il programma è sostanzialmente lo stesso, però di anno in anno, rivedendo le slide prima delle lezioni, qualche modifica viene fatta. Io cercherò di mettervele in anticipo, ovviamente, quando pubblico le video lezioni vi metto anche le slide che ho utilizzato, così voi avete le slide eventualmente per prendere appunti o per fare delle... Qualunque altra attività necessaria. Allora... Scusatemi, ma... Vedo una mano alzata, ma non capisco di chi sia. Scusate, un attimo di... Grazie. 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 Segnale di mano alzata, però non so bene di chi sia stato. Altra domanda. Le conoscenze di grafi e altri aspetti, quindi il corso di algoritmi e programmazione avanzata, non sono strettamente necessari. In questo insegnamento ci sono studenti di ingegneria informatica, ingegneria del cinema, gli studenti di ingegneria del cinema non hanno seguito il corso di algoritmi e programmazione avanzata, quindi l'idea è quella di fornire una conoscenza del linguaggio base. Ovviamente ci saranno alcuni aspetti più specifici, io farò qualche richiamo ogni tanto su particolari strutture dati, algoritmi che possono essere interessanti se uno conosce già il resto, ma non sono strettamente necessari per sostenere il corso. Allora. Non mi pasticciate sulla lavagna. A questo punto direi veloce riepilogo di quanto è il paradigma orientato agli oggetti. nella lezione che vi ho pubblicato ieri, io vi chiedevo di provare a ragionare su questo tipo di problema, quindi se abbiamo un registratore di cassa che fa delle ricevute, una ricevuta è una serie di elementi, quindi di voci. Ogni elemento corrisponde a un prodotto che ha quindi un prezzo e c'è un listino prodotti e ogni volta che inserisco un codice del prodotto questo viene aggiunto alla ricevuta. Dopo l'ultimo elemento sostanzialmente viene stampata la ricevuta col totale e quindi sostanzialmente se ho tipo 13, 57, 123 e poi metto 0, che è il codice che dice la fine dei prodotti, quello che ottengo dovrebbe essere una stampa come quella che vedete qua. Quindi il prodotto 13, il prodotto 57, il prodotto 63, relativi prezzi e il totale. Come studiamo un programma di questo tipo? Beh, direi che questa potrebbe essere una possibile soluzione, dove abbiamo il listino prezzi che è dato da questi due array, lo scontrino che è dato da questo array in cui andiamo a memorizzare il codice dei prodotti, in questo caso assumiamo il codice dei prodotti che corrisponde all'indice dei prezzi e questo mi dice quanti elementi ci sono. Poi abbiamo un add, un print, un int, un read che legge il codice e semplicemente inizializzo, faccio un ciclo e quando ho finito stampo lo scontrino. Quindi, situazione molto molto semplice. Questa è la struttura del programma, dove abbiamo un main che chiama add, scusate, chiama read, poi chiama add, alla fine chiama print e ovviamente prima di tutto chiamerà init. Ovviamente queste funzioni vanno ad accedere a tutti i dati. Qual è il problema qui? è che questi due array, ad esempio, non hanno un legame stretto. Il numero di elementi e l'array con gli elementi stessi, di nuovo, non hanno una forte coesione. I metodi add e print che agiscono su questi fondamentalmente, di nuovo, non sono legati strettamente a questi dati. Quindi l'idea è che abbiamo dati e funzioni sparsi. L'idea è che tramite un approccio orientato agli oggetti io posso andare a costruire dei moduli che cercano di mettere assieme i vari elementi, per cui in questo caso io posso andare a costruire quello che è un oggetto che include i dati, le funzioni che operano su questi dati, che costituiscono quella che si chiama l'interfaccia, che sostanzialmente mi dà un modulo. Quindi l'idea è di avere degli oggetti che sono dei moduli, che incapsulano dei dati e offrono le funzioni per operare su questi dati. L'idea dell'interfaccia è importante perché quando io ho un oggetto, in un programma orientato agli oggetti, non posso accedere ai dati tramite altre funzioni. Quindi devo per forza passare tramite le funzioni che costituiscono l'interfaccia. Altro vantaggio è che io posso andare a costruire, ad esempio, degli oggetti che mettono insieme dati, che apparentemente sarebbero scorrelati, oppure posso fare un passo ulteriore e andare ancora più nel dettaglio, identificare degli oggetti più specifici. Allora, una classe è simile a quello che si chiama un ADT. Sì, in realtà, le classi sono più ampie di quello che è un tipo di dato astratto. Però, nell'esempio più semplice, sì, un tipo di dato astratto corrisponde a una classe. Questo ovviamente è un'osservazione per chi ha fatto algoritmi e programmazione. Quindi, gli ADT sono implementati come delle classi, le classi in realtà sono qualcosa di molto più ampio. Quindi, in questo esempio, il prezzo e il nome di un prodotto, che si trovano in due array separati, dovrebbero essere congiunti. Quindi, io posso andare a definire un oggetto che mette assieme questi due elementi. Anche le ricevute, scusate, la ricevuta contiene tanti elementi e ogni singolo elemento potrebbe essere un oggetto. Quale è l'idea? È che noi cerchiamo di costruire degli oggetti che corrispondono a concetti che fanno parte del dominio del problema. Quindi, ragioniamo in termini più vicini al problema e che sono quindi un po' intermedi rispetto a quello che è il codice che noi andremo a scrivere. Le classi, quindi, rappresentano dei concetti di alto livello, prese dal dominio del problema. vengono create e poi possono essere istanziati in oggetti. Quindi, l'idea è che io costruisco un oggetto a partire dalla struttura di base che è definita la classe e le classi possono essere legate tra di loro. Per cui, nel nostro problema di prima, volendo, possiamo avere quattro classi, una classe ricevuta, una classe listino prezzi, una classe elemento, una classe prodotto, che sono legate in questo modo. Quindi, ad esempio, una ricevuta contiene molti elementi e un elemento si riferisce a un prodotto. Capite che tra questo e l'esempio di prima del codice che era questo, la facilità di comprensione è molto elevata, quindi capire questo richiede molto più lavoro rispetto a iniziare da questo livello di astrazione. Quindi, l'idea è che stiamo elevando il livello di astrazione in modo da semplificare il nostro ragionamento. Poi, ovviamente, andremo a finire comunque al codice più facile, più leggibile del CI, ma comunque l'idea è questa. Quindi, l'approccio orientato agli oggetti è quello di identificare classi e oggetti e definire dei nuovi elementi. Salto le motivazioni. Abbiamo visto che cos'è l'interfaccia, quindi è l'insieme di funzioni che permettono di accedere ai dati che stanno dentro un oggetto. Le funzioni nell'approccio agli oggetti si chiamano metodi e non funzioni. Come facciamo a costruire un modello ad oggetti? L'idea è quindi facciamo prima un modello e poi andiamo a scrivere il codice. Lo possiamo fare tramite UML, che è un linguaggio standard di modellazione, che definisce tanti elementi, tra cui classi definite come rettangoli, spesso una classe a tre comparti, il primo, quello in alto, e il nome. Le classi di solito rappresentano degli insiemi, se pensiamo a un diagramma di Venn, e gli elementi invece sono i singoli oggetti costruiti a partire dalla classe. Oltre alle classi abbiamo i dati che stanno dentro, e quindi la classe descrive quali sono i dati che staranno dentro gli oggetti, e quindi abbiamo nel comparto centrale i dati. In questo caso una stringa che si chiama codice e un intero che si chiama anno. Sono molto simili alle variabili. Ovviamente abbiamo anche i metodi che vengono messi nel comparto inferiore. Quindi abbiamo la struttura di un oggetto che è definita da una classe, che avrà un nome, una serie di dati, quindi ogni oggetto avrà una copia dei valori di questi dati, e dei metodi, ovvero funzioni, che permettono di andare ad accedere a quei dati. Oltre a quello noi abbiamo anche delle associazioni che quindi ci dicono come classi possono essere collegate tra di loro. Ad esempio, uno studente segue un corso, un impiegato lavora in una città, oppure possiamo avere una residenza tra impiegato e città. Spesso in UML si mette questo piccolo triangolino per andare a facilitare la lettura. Quindi Employee Works in City si legge facilmente, City Works in Employee no, ma questo triangolino ci permette di leggerlo. Se non conosciamo il problema, questo può essere di aiuto. Ovviamente un'associazione mi dà una possibile esistenza di legame tra gli oggetti che corrispondono, quindi avremo un oggetto studente che può essere legato a un oggetto corso. Per cui, scusate, mi torno un attimo indietro, ecco qua, abbiamo studenti e corsi, quindi abbiamo uno studente che è legato a un corso, possiamo avere più studenti legati a un corso, possiamo avere più corsi seguiti dallo stesso studente, eccetera. Ovviamente possiamo avere studenti che non seguono alcun corso o corsi seguiti da nessuno. Possiamo avere delle relazioni ricorsive, ma ci torniamo poi più avanti, e poi abbiamo anche la molteplicità che è sostanzialmente un dettaglio in più che mi dice quanti elementi di un certo tipo possono essere legati a un altro. Quindi l'idea è, se io ho un oggetto di tipo auto legato tramite questa associazione mount a delle ruote, quante ruote posso vedere? Beh, questa è la molteplicità che ci dice che può vedere da zero a quattro ruote, quindi un minimo di zero, un massimo di quattro. Quindi se l'auto è dal gommista a fare il cambio gomma, in un certo istante non avrà nessuna ruota montata, e al più ne avrà quattro. Quindi l'idea è, io da un punto di vista di un oggetto, auto, provo a guardare le ruote e vedo che ne posso vedere da zero a quattro. Quindi questo mi dà dei vincoli in più sulla molteplicità. Ovviamente il tutto vale anche nell'altra direzione. Quindi un'auto può essere, scusate, una ruota può essere legata a zero o più auto. L'osservazione è che i diagrammi delle classi sono molto simili ai diagrammi R. Sì, in effetti è possibile andare a progettare un database utilizzando sostanzialmente un diagramma delle classi invece di un diagramma R. La differenza dei diagrammi delle classi è che i diagrammi delle classi prevedono anche uno spazio per i metodi, cosa che in un diagramma R dove ci sono soltanto i dati ovviamente non è possibile. Quindi questa piccola nota per chi segue, sta seguendo, seguirà un corso di basi di dati. Le freccine qua mi danno un ordine di lettura. Quindi l'auto monta delle ruote. Sono semplicemente per la lettura, in realtà non mi danno un ordine vero e proprio. Semplicemente mi dicono in che ordine leggerlo. Se io non conoscessi un'auto, non sapessi com'è fatta e non sapessi che monta delle ruote, ecco, non so se l'auto monta le ruote e le ruote montano l'auto. E quindi quello mi dà un suggerimento di lettura. Normalmente io non vado a mettere numeri precisi come il 4 di prima, ma uso per la molteplicità minima 0,1. 0 vuol dire che non sono obbligato ad avere un legame con un altro oggetto di quel tipo. Per cui, ad esempio, una ruota non è obbligata per forza a essere montata su un'auto. 0. Se io qui mettessi 1 vuol dire che una ruota deve essere per forza su un'auto. 1 mi dà l'obbligatorietà. La molteplicità massima può essere 1 oppure asterisco. Asterisco vuol dire molti. Per chi conosce i diagrammi R, normalmente negli diagrammi R si usa n e non asterisco. Significato è lo stesso. Sulla molteplicità massima di solito si mette 1 o molti. È raro, ma in alcuni casi si fa, di andare a mettere dei numeri specifici. Questo si fa semplicemente solo quando quel numero ha un significato molto importante e fisso. Qui abbiamo un po' di esempi. Abbiamo parlato di aggregazione. A questo punto, come faccio a costruire un diagramma delle classi? Beh, inizio a identificare quali sono le classi e sono i concetti importanti che trovo in un mio dominio, nella descrizione del problema. Cerco di capire quali dati sono utili per andare a caratterizzare queste classi, e quelli saranno gli attributi. Dopodiché vado a vedere come le classi sono legate tra di loro. E quindi quelle sono poi le associazioni. E infine, identifico quali operazioni voglio poter fare sui dati che stanno dentro le classi. E questi sono quindi i metodi. Questo ordine, prima le classi, poi gli attributi, poi le associazioni, poi i metodi, è un qualcosa che io vi do come linea guida iniziale. Non seguitelo come una cosa obbligatoria e fissa. Ovviamente è possibile andare in varie direzioni. Quindi fare tutte le classi e poi scendere nei dettagli di attributi. Oppure prendere una classe e iniziare a dettagliare gli attributi e i metodi. Quindi le modalità con cui io identifico questi elementi può variare. Inizialmente vi consiglio di seguire quest'ordine. E poi dopo, man mano che prendete l'abitudine, ovviamente seguirete quello che è più utile per voi. È importante ricordarvi però di fare tutti questi passi. Quindi identificare le classi, definire gli attributi, definire le associazioni con le loro molteplicità e definire i metodi. Questo è da fare comunque. Quindi se volete è una checklist. Come faccio a progettare un sistema utilizzando questo approccio? Lo faccio e quindi questa è una cosa in più rispetto a quanto avete visto, per chi ha visto le video lezioni. Parto di nuovo dalla descrizione del nostro piccolo problema di prima. Quindi ho la ricevuta, quindi ho il registratore di CAS, la ricevuta fatta di elementi, ogni elemento corrisponde a un prodotto che ha un nome e un prezzo. I prodotti sono descritti in una lista, in un listino prezzi. Io inserisco il codice e poi viene aggiunto un item alla nostra ricevuta e dopo, quando ho finito, stampo lo scontrino completo con l'elenco degli item e il totale. Ecco, queste potrebbero essere delle classi... Allora, scusate un attimo, ma c'è una domanda. Allora, su una molteplicità torniamo un attimo dopo. Iniziamo a vedere questo esempio e poi ci ritorno. Allora, quindi le classi che abbiamo identificato, ma le avevamo già identificate prima, sono la classe ricevuta, la classe elemento, il destino prodotti e il prodotto. Vedete che io ho messo nel prodotto un prezzo e un nome. La lista di prodotti in realtà non ha dei dati propri, la lista di prodotti è legata a dei prodotti, la ricevuta di per sé non ha dei dati utili, potrebbe avere un totale, sì, ma in realtà il totale può essere calcolato e gli elementi, di nuovo, di per sé non sono così importanti, cioè non hanno dei dati al loro interno. Il passo successivo è quello di andare a definire quelli che sono le associazioni. per cui una ricevuta contiene degli item, un listino prezzi contiene dei prodotti, la ricevuta è basata su un listino prezzi e un elemento della ricevuta si riferisce a un prodotto. Se volete, questo è una concettualizzazione di quello che è uno scontrino del relativo listino prezzi. Passo ulteriore, aggiungo le molteplicità. Ecco qui, adesso mi fermo e cerchiamo di capire cosa vogliono dire le molteplicità nel dettaglio. Allora, iniziamo dalla ricevuta che contiene degli item. Questo rombo rappresenta un'aggregazione, quindi è un'associazione che mi dice che gli elementi sono parte integrante della ricevuta. Quindi questo rombo, o diamond in inglese, mi rappresenta questo. Guardiamo le molteplicità. Uno. Uno vuol dire che quando io creo un oggetto item, quell'oggetto deve essere collegato per forza a una ricevuta, è soltanto una. Quindi non ha senso creare un elemento di una ricevuta senza la ricevuta. Viceversa, una ricevuta può avere zero o più item. Quindi questo vuol dire che una ricevuta inizialmente non avrà nessun item e poi potrà averne più di uno. Come facciamo a sapere se ne ha zero o tanti? Beh, sostanzialmente quando andremo a vedere come traduciamo questa struttura nel codice Java, vedremo che dentro la classe ricevuta ci sarà un qualcosa che permette di andare a memorizzare tanti item. Immaginiamo, nel caso più semplice, un qualcosa che assomiglia ad un array. Quindi quanti elementi avremo nell'array? Beh, sostanzialmente sono tutti gli item. Se andiamo a vedere l'item e il prodotto, abbiamo di nuovo un'associazione simile a quella di prima, dove abbiamo che un item deve per forza riferirsi a un prodotto, quindi non ha senso aggiungere un item che non sia legato a un prodotto, mentre invece uno specifico prodotto può comparire molte o anche nessuna volta. Immaginiamo che un prodotto non sia mai stato acquistato, non compare come item in nessuna ricevuta. Per quanto riguarda la lista prezzi, ho una situazione analoga a quella di prima, quindi un prodotto deve per forza trovarsi in un listino prezzi e un listino prezzi può avere da zero a più prodotti. La ricevuta si basa per forza su un listino prezzi e un listino prezzi può avere un certo numero di ricevute che fanno riferimento adesso. Fino qui abbiamo parlato di dati, non abbiamo parlato di operazioni che possono essere svolte. Allora, la domanda, è necessario questa classe item? Non potrebbe essere identico andare a mettere, legare una ricevuta a un prodotto? In linea di principio sì, potrebbe essere un'altra soluzione. Io ho preferito mettere questa soluzione andando a esplicitare item perché in ottica futura, qui dentro, io potrei andare a mettere una quantità. A questo punto, se io ho un'associazione, devo mettere tante associazioni, invece è più semplice andare a mettere qui una quantità. Andare a dire che la mia ricevuta contiene 10 confezioni di amuchina. Altrimenti dovrei legare la ricevuta 10 volte con il prodotto che descrive la amuchina. Però, in linea di principio, dato il problema molto semplice che abbiamo visto prima, una soluzione potrebbe essere quella di avere semplicemente la ricevuta direttamente collegata al prodotto. Aggiungiamo quello che è il comportamento. Noi abbiamo sostanzialmente due azioni che devono essere fatte. aggiungere un elemento alla ricevuta e poi stampare il totale. Vi faccio vedere quello che è una possibile soluzione con una serie di metodi. L'idea è che io chiedo a un oggetto di svolgere un'operazione, quindi sostanzialmente interagisco principalmente con un oggetto di tipo ricevuta a cui vado a chiedere due possibili attività. Aggiungere al suo interno un item con un certo codice oppure stamparsi, stampare la ricevuta. Questo oggetto che cosa farà? Si appoggerà ad altri oggetti, quindi si appoggerà a oggetti tipo lista prezzi in cui andrà a cercare il prodotto, si appoggerà a degli item in cui andrà a chiedere il prezzo o in cui andrà a chiedere di stampare e ovviamente i prodotti avranno la possibilità di restituire il prezzo o di stampare i loro dettagli. Immaginiamo un caso specifico in cui abbiamo una ricevuta in cui aggiungiamo un item, un elemento. Quando abbiamo il programma main che chiama il metodo add su una ricevuta, la ricevuta cosa fa? Chiede al listino prezzi di trovare il prodotto con quel codice, quindi c'è un metodo che si chiama find dentro questo oggetto che restituisce un product e quindi il listino prezzi andrà a cercare un codice con il prodotto che gli viene passato e lo restituirà alla ricevuta. A questo punto la ricevuta cosa fa? Crea un oggetto item legandolo a quel prodotto, immaginiamo che sia il prodotto P2. Quindi gli oggetti che cosa fanno? Possono chiedere informazioni ad altri oggetti, possono restituire informazioni. Questa slide l'ho aggiunta perché non c'era quando ho fatto il video la volta scorsa, quindi vi aggiornerò poi anche le slide. Era pensata giusto per la lezione di oggi e quindi devo ancora aggiornarvela. La ricevuta, che cosa fa? Può andare, l'oggetto ricevuta può andare a creare altri oggetti. Altra possibile operazione è questa. Il programma main chiede all'oggetto ricevuta di stampare la ricevuta stessa perché siamo alla fine. La ricevuta che cosa fa? Deve fare due operazioni sostanzialmente. Deve stampare tutti gli item, quindi la ricevuta chiede al singolo item di stampare le sue informazioni, l'item che cosa fa? Chiede al prodotto di stampare le sue caratteristiche. Ricordatevi che i dati che stanno dentro il prodotto, quindi il nome e il prezzo, sono privati di quell'oggetto. Quindi non è che il main va a vedere qual è il nome, qual è il prezzo di un certo prodotto. No, al limite posso chiedere al prodotto di stampare le sue informazioni. Questo è l'idea di incapsulamento information hiding. E quindi per ogni item la ricevuta andrà a chiamare il metodo print che permetterà di stamparlo. Per ogni item andrà anche a chiedere il prezzo perché poi deve calcolare il totale. E quindi chiede il prezzo, l'item di per sé non sa il prezzo e lo andrà a chiedere a sua volta al prodotto. Quindi l'idea è che gli oggetti possono accedere ai propri dati e se hanno bisogno di altre informazioni le chiedono agli altri oggetti. Questa è l'idea di base dell'approccio orientato agli oggetti. Provate a confrontare questa struttura, quindi questo scambio di messaggi per il print piuttosto che quest'altro scambio di messaggi per l'ad con quella che era la struttura iniziale, adesso ve la recupero al volo, con questo codice. Vedete che siamo su un livello di estrazione molto più alto, abbiamo descritto quelli che sono scambi di messaggi e soprattutto stiamo parlando di una serie di elementi, ognuno con le proprie caratteristiche. Quindi torno all'ultimo. Qual è l'idea fondamentale? È che se qualcosa non funziona in un prodotto, io vado a vedere quella classe, perché i dati di quella classe sono gestiti esclusivamente dalla classe stessa. Se c'è qualcosa che non funziona nella lista prezzi, io mi limito a guardare la lista prezzi, so che nessun item, nessuna ricevuta, nessun prodotto potranno andare a modificare i suoi dati. Quindi ho dei moduli e ogni modulo può essere considerato in maniera indipendente. È il principio del divide-timpera. Invece di avere un ammasso di codice in cui ho funzioni buttate da una parte, dati buttati dall'altra, mescolati in un rodaglia unica, cosa faccio? Ho dei singoli elementi che comunicano in maniera pulita attraverso matri dei relativi metodi e che possiedono i dati. Quindi quei dati possono essere modificati esclusivamente da quegli elementi. A questo punto, se questa è la struttura del nostro programma, come possiamo andare a realizzare il codice che lo esegue e che quindi sostanzialmente fa l'equivalente del nostro programma C di prima. tra l'altro noi possiamo anche andare a vedere il codice scusatemi, sto prendendo una pagina web. Allora, se ce la facciamo. Allora, vi condivido questa pagina. Allora, questo risponde anche all'ultima domanda che c'è sulla chat. Tutto il materiale del corso è su questa pagina. Quindi, Softang Polito IT Corsis 09 CBI. Qui trovate le slide, quindi l'introduzione all'insegnamento e il paradigma orientato agli oggetti sono le slide che abbiamo visto oggi e di cui ci sono le video lezioni. Non sono completamente descritte dalle video lezioni, quindi ci sono ancora altre slide che faremo poi in futuro su cui torneremo. L'ambiente Java che è l'argomento della prossima lezione. C'è il link alla playlist YouTube in cui trovate le video lezioni. Vi potrò mettere qua sopra su questa pagina anche le video lezioni, quindi se avete difficoltà a scaricarle da YouTube potete scaricarle poi direttamente da questa pagina. E poi ci saranno i laboratori, quindi le indicazioni e c'è anche un link a una pagina in cui potrete accedere tramite Subversion per andare a recuperare tutti gli esempi che vediamo. Ora, non dovrete accedere normalmente tramite browser, anche se potete farlo. se io vado a mettere questo link quindi op.it slash svn slash op 2020 slash ita 1 qui dentro trovate una cartella che si chiama c con scontrino.c e quindi il codice completo dell'esempio di qui sopra. Quindi questo non so se lo vedete bene è il codice che sostanzialmente fa l'operazione che abbiamo visto prima. Quindi a questo punto il prossimo passaggio è invece di utilizzare questo codice come facciamo partendo da quel diagramma delle classi che abbiamo disegnato prima a scrivere il codice orientato agli oggetti utilizzando un linguaggio di programmazione ad oggetti. Quindi il prossimo passaggio e saranno le prossime video lezioni che vi metterò a disposizione è capire qual è un linguaggio di programmazione ad oggetti in particolare Java e iniziare a vedere la sintassi. Io a questo punto chiuderei la mia chiacchierata davanti al puntino luminoso che è la telecamera. Resto a disposizione online ancora per un quarto d'ora 20 minuti quindi se avete domande potete farmene sulla chat. Io cercherò di rispondere a tutti dopodiché chiuderei per oggi vi chiedo di guardare bene le video lezioni io aggiornerò anche le slide sul corso con questi ultimi elementi e poi vi pubblicherò a breve direi entro la mattinata di domani le video lezioni su l'introduzione a quello che è l'ambiente Java e alla sua sintassi di base mercoledì prossimo ci vediamo di nuovo e vi presenterò tutti gli elementi necessari per capire come funziona Java inizieremo a vedere gli strumenti di base indicativamente io resterei su Zoom che mi pare che questa mattina abbia funzionato in questo momento vedo 148 partecipanti quindi siete tutti online state dormendo state facendo colazione non lo so ma sostanzialmente dovreste riuscire a seguire abbastanza bene se nel corso del tempo poi scopriamo che la Virtual Classroom del Politecnico funziona benissimo è meglio di Zoom allora torniamo a quella però l'idea è che io vi manderò un avviso con il link della pagina per chi non è iscritto al primo corso quindi il mio ma vuole seguire vi chiedo di mandarvi un'email con la vostra matricola io vi aggiungo all'elenco e quindi riceverete anche voi gli avvisi e quant'altro quindi scrivetemi una mail io vi aggiungo all'elenco così se volete seguire queste video lezioni riceverete gli avvisi con i link necessari questa video lezione è registrata quindi adesso fermo la video registrazione con i link un'email un'email con i link Grazie a tutti